Nel corso dell'operazione che ha portato all'azzeramento del mandamento di Corleone in provincia di Palermo, i carabinieri di Monreale e Corleone hanno eseguito una serie di perquisizioni con il sequestro di un cospico arsenale formato da una pistola e quattro fucili, oltre al relativo munizionamento, che sono state rinvenute esattamente nell'ovile dei Pellitteri, nascoste sotto le balle di Fieno, come avevano preventivato i dei giovani arrestati. Una pistola a beretta calibro 7,65 con il colpo in canna pronta a sparare e un fucile semiautomatico Franchi calibro 12, più numerose munizioni, sono state sequestrate dai carabinieri. Nel pomeriggio poi le indagini hanno consentito di individuare anche lo zio Pino, Pellegrino Grisafi, 56 anni di Caltabellotta, in provincia di Egrigento, incensurato. Nella sua campagna sono stati trovati, nascosti in un pozzetto frigo in disuso, tre fucili perfettamente funzionanti, una a cannemozza e marca Franchi calibro 12 con matricola a brasa, una doppietta sovrapposta marca Lames calibro 12 con matricola parzialmente a brasa e un'altra doppietta calibro 12 priva di matricola e relativo munizionamento, tra cui colpi a palla singola particolarmente dirompenti. Si tratta di un importante riscontro che avvalora ulteriormente la concretezza delle minacce captate e della pericolosità sociale degli arrestati, che avevano in mente di costituirsi in un mandamento diverso da quello di Corleone, avvicinandosi ad esponenti agrigentili di Cosa Nostra e che programmavano omicidi anche sul Commissione per somme di denaro esigua. L'indagine Grande Passo 3 ha rivelato il possesso e la detenzione illegale di armi da parte dei principali esponenti della famiglia mafiosa di Chius Scrafe, ovvero i Pellitteri, che costituivano un gruppo di fuoco a disposizione di Cosa Nostra per compiere atti intimidatori ed omicidi nei confronti di vittime predesignate, imprenditori ma anche ignari cittadini, imbrigliati in vicende private e di edità contese. Il 19 gennaio di quest'anno era stata intercettata una conversazione tra Salvatore Pellitteri, 23 anni, e il cugino Roberto Pellitteri, arrestati in esecuzione del fermo. L'argomento verteva principalmente sulla scelta del luogo dove nascondere le armi in loro possesso, sull'opportunità di spostarle sfruttando l'oscurità della notte per evitare eventuali controlli sul territorio delle forze di pulizia nonché sulla necessità di provarla ed effettuare la dovuta manutenzione per mantenere le efficienti. In particolare, gli indagati facevano riferimento ad alcune pistole ad una persona, tale Ziopino, che teneva nascosta un'arma all'interno della propria autovettura. Lo Ziopino se la porta appresso, tanto chi lo ferma. Lo Ziopino la mette qua dietro a seggiolino su o cela, diceva Roberto Pellitteri. Dunque trova conferma, come viene scritto nel provvedimento di fermo, l'ipotesi, divenuta ora certezza, del possesso di armi ad opera del gruppo mafioso che si avvale per la custodia e la manutenzione di persone di Burgio e Caltabellota, comuni in provincia di Agrigento.